E siamo allo sport, parliamo di calcio, nessuna svolta nella Pescara Calcio, si va avanti con Sebastiani Navarra al nostro sito, ha affermato bisogno di ulteriore tempo per analizzare i numeri del club, in questa trattativa non c'è un vincitore ma non c'è neanche uno sconfitto, tra me e il presidente Sebastiani è nato un ottimo rapporto, vedremo in futuro, ma sempre per prendere la maggioranza, se dovesse entrare con Baldini sarei felicissimo. Chiusa almeno per ora dunque la trattativa con Rosettano Navarra nel tardo pomeriggio di ieri, la lettera di intenti dell'imprentore di Ferentino, questa mattina una lunga telefonata con il presidente Biancazzurro, risultato finale, nessun accordo e dunque niente svolta, Navarra ha bisogno di ulteriore tempo per analizzare numeri e documenti.